Ehi, lo sai che con il link in descrizione trovi gadget di qualsiasi tipo, magliette, tazze, di tutto e di più a tema Marvel, quindi Spider-Man, Iron Man, ma ce n'è per tutti i gusti, trovi anche anime, stv e con il codice Jacksad hai anche un piccolo sconto, link in descrizione per fare il tuo acquisto Parliamo di alcune informazioni interessanti per quanto riguarda Spider-Man New Home Partiamo innanzitutto da una cosa che ci interessa tantissimo ovvero quando la stampa potrà parlare di Spider-Man New Home Quando è che praticamente usciranno effettivamente spoiler importanti? Ebbene, pare che il tutto avverrà il 13 dicembre, quindi molto, molto in là come è data praticamente due giorni prima del rilascio in Italia quindi se tutto va bene dovremo resistere gli spoiler soltanto due giorni perché infatti ieri Sony ha mostrato i primi 40 minuti di Spider-Man New Home quindi la critica, la stampa non ne sa ancora molto per quanto riguarda il film ha visto solo l'inizio e se ho letto dei pareri interessanti pare che sia una bomba già solo i primi 40 minuti quindi forse con gli spoiler possiamo stare abbastanza sereni ma ripeto, non siate mai sereni per quanto riguarda gli spoiler state sempre attenti Inoltre gli effetti speciali di Spider-Man New Home non sono ancora completati verranno completati definitivamente entro una settimana non è una cosa di cui preoccuparsi perché è capitato anche con altri film non è una cosa che insomma è successa solo per Spider-Man New Home quindi insomma tra una settimana il film è completo e noi lo vedremo al cinema inoltre vi ricordate quella scena del fratello di Tom Holland che avrebbe dovuto appunto essere nel film in cui si vede che fa il ladruncolo se ne è parlato molto di quella scena durante questi mesi ebbene dopo tutto questo tempo hanno deciso di fare fuori quella scena vabbè non è che fosse importante però insomma se ne ha parlato tantissimo di questa scena con lo fratello di Tom Holland, con lo fratello di Tom Holland e alla fine niente, l'hanno fatto fuori vabbè non importa, non era una scena importante sicuramente non era niente di che e qui direi anche chi se ne frega inoltre aggiungo una piccola cosa in più che non c'entra nulla con Spider-Man New Home ma c'entra con Spider-Man 1 Universo 2 pare infatti che nelle prime prossime ore avremo le prime informazioni su questo film di cui sicuramente discuteremo detto questo ragazzi iscrivetevi al canale seguite su Twitch e tutti gli altri social che trovate in descrizione vi ricordo che nel link in descrizione trovate le nuove magliette di Spider-Man New Home quindi con tutti i costumi di Maguire, di Tom Holland insomma quelli che vedete in Spider-Man New Home li trovate in descrizione con il codice sconto Jackson avete appunto un piccolo sconto su queste magliette ragazzi vi saluto e ci vediamo prossimamente in un nuovo video sono tutti e alla prossima